E' il primo ad essere adottato da una pubblica amministrazione siciliana. Il codice etico che l'azienda ospedaliera civico di Palermo ha varato comprende 23 articoli relativi a diritti e doveri morali e quale ogni membro dell'organizzazione deve attenersi. Si tratta dunque di norme etico-sociali che tutti, dai dirigenti e dipendenti fino ai collaboratori, sono chiamati a rispettare, per garantire più trasparenza e più efficacia all'ospedale e dunque ai pazienti. E per chi trasgredisce le sanzioni possono arrivare anche al licenziamento. Innanzitutto è rivolto ovviamente in termini di sanzioni verso i dipendenti interni, ma anche verso le ditte private, dicevo. Per esempio, faccio così per dire, proprio nel codice etico, è previsto che qualora una ditta fornitrice, a qualsiasi livello, vuoi di servizi, vuoi di fornitura di materiali, venga individuata come pagante il pizzo. Durante, ovvero anche dopo aver effettuato la fornitura, verrà depennata da quelle che sono le imprese alle quali noi ci rivolgiamo per forniture di lavori, ovvero forniture di servizi. Il controllo di eticità è demandato un organismo esterno all'azienda. Cioè, noi prevediamo la creazione di un comitato per la vigilanza etica che è composto da personalità individuate anche in accordo con la prefettura di Palermo e che abbiano alcune caratteristiche ben precise. Grazie.